Uno viaggio. Romani, è ora di andare in guerra. I Daci, grazie a numerose vittorie riportate sulle popolazioni di Cina, sono diventati potenti. Una minaccia, dunque, per il nostro impero. Noi conosciamo molto bene le loro capacità militari. I miei predecessori, Cesare ed Augusto, inviarono truppi in traccia un tempo, per domani, ma non conclusero l'impresa. Domiziano, invece, provvide ad omare le loro rivolte, guidate dal loro re, Decevano, che tentò di conquistare la nostra provincia della Mesia. Per placare quei barbari, abbiamo concesso a Decevano la corona reale, ma questo non gli è bastato. Ora si stanno preparando ad avanzare di nuovo, ma non abbiate paura, fratelli romani, noi siamo più forti. Quella che sta per cominciare è una guerra e loro devono capire che non abbiamo nessuna paura di affrontarla. Preparatevi dunque, romani. Salutate le vostre famiglie. Armatevi. E preparatevi a salvare. Gli dèi ci guarderanno e ci guideranno. Io, il vostro imperatore, sarò al vostro fianco e insieme li batteremo. Grande. Grande sarà il nostro trionfo e grande la loro unigazione. Quando torneremo, porteremo con noi sconfinate ricchezze e veremo acclamati come degli eroi. E così, finalmente, completeremo l'opera di Cesare, Augusto e Domiziano per la gloria di Roma. Grazie.